Buongiorno, buonasera, scusate, si parte già bene. Buonasera banda di bucaioli. Tra un po' è Natale, che si fa? Siete pronti? Io, tempo di fare una cagata e poi sono pronto. Voi che buffate? Raccontatemi un po' io, che buffate? Cazzo, perché non si fa mai un cazzo a Natale, però devo dire che quest'anno, mi raccomando, mangiate come dei maiali. Mangiate come dei maiali. Sfondatevi il fegato che vi devi scoppiare, via. A me mi è già scoppiato l'anno scorso, quindi quest'anno mi sa proprio che non scoppia, perché mi è già scoppiato l'anno scorso, non ce l'ho già più. Comunque, buon Natale a tutti, ragazzi. Buon Natale. Buon Natale e felice anno nuovo. Ciao, auguri.